50 metri di circa la chiusura delle ali, è un miglio per anziani di categoria G. In partenza Pali Sander, chiaramente il più veloce. Scavalca Orata Jet e Ocavango B. A largo intervengono Ottawa Fan ed Olifante Jet. Prima curva con Pali Sander, che viene piuttosto in giù. Riesce a tenerlo in gareggiata Romeo Gallucci. 14.9, i primi 200 metri, è finita a tabellone Pandora S. Pali Sander precede Orata Jet e Ottawa Fan, poi Olifante Jet in quarta posizione. A precedere Orlandegliulivi. 29.8, il quarto iniziale. Muove a largo Orland e va a calcio dei primi. 600 percorsi in 45.5, passaggio davanti alle tribune. Pali Sander, Orata, Ottawa, a largo Orlandegliulivi che si trascina Moserai, poi Olifante Jet. 1.1, scarsi il giro di pista, piuttosto solleciti. Gallucci è costritto a rallentare e a guidare il suo allievo in curva. Allunga sulle dritte. chilometro in 1.16,6. Pali Sander, Orata Jet, Ottawa Fan, poi Olifante Jet. Stentano gli altri. Allunga ancora sulla retta delle scuderie. Cerca di scrollarsi di tosto Orata Jet che però lo fila. 1.31, i tre quarti di miglio. Pali Sander avvicinato da Orata e da Ottawa Fan. Adesso Orata si sposta ai fianchi del leader. Poi Ottawa Fan. Retta d'arrivo. Pali Sander, Orata Jet. Orata va su Pali Sander che è stanco. Lo sta sopravanzando. Interviene Ottawa a largo. Metri conclusivi. Interviene anche il numero 13 di OutDVG. OutDVG. Orata Jet. Ed al terzo il numero 10 di Ottawa Fan. 13-3-10. Delude il favorito Pali Sander che non faceva una curva. E a sorpresa. OutDVG. 23,24 euro. Riesce a sopravanzare l'onesta Orata Jet. Al terzo. Finisce Ottawa Fan. Media probabile di 1.16,3 per il vincitore. In salchi Giorgio D'Alessandro Junior, già vincitore in giornata e quindi autore di un doppio. I colori della scuderia La Zigara. E Giorgio D'Alessandro Junior anche al tre.